Inaugurato oggi il cantiere per la realizzazione del nuovo ascensore di Viale Rendina che risalirà la scarpata a monte del terminal di Colle Maggio in pratica arrivando a due passi dall'emiciclo e dalla villa. Il progetto vede come soggetto attuatore il Consiglio regionale e prevede anche la realizzazione di un parco urbano fuori dalle mura. Un progetto che risale a qualche anno fa. Chi si è speso molto per questo intervento è il Vicepresidente del Consiglio regionale. Renderà fruibile la città del futuro, l'Aquila capoluogo di regione ce la immaginiamo interamente pedonalizzata e uno spazio come il termine Lorenzo Natali sarà finalmente agganciato dalla città non un corpo strano. Non solo un ascensore di collocamento ma ci sarà anche un parco urbano a ridosso delle mura dedicato alle famiglie più piccole quindi faremo vivere uno spazio che oggi di fatto è morto. Avremo cura dei più alti standard ambientali e paesaggistici delle norme e considerate che questo progetto viene da lontano, dal 2016. Nel 2019 l'abbiamo ripreso seguendo i lavori devo ringraziare la sovrintendenza per i pareri e la volontà di lavorare con noi nella realizzazione di questo progetto. Oggi è una giornata di festa perché poniamo la prima pietra di un'opera che finirà nel giro di un anno. L'opera pubblica è stata affidata con gara d'appalto alla ditta Pangea di Pescara. L'intervento dalla progettazione e la realizzazione costa quasi 3 milioni di euro. Oltre un milione di euro arriva dai fondi CIP e la restante parte dal fondo complementare del PNRR. Iniziativa fatta in sinergia tra Consiglio Comune e Sovrintendenza. Tutte le fasi dei lavori sono seguite e coordinate dalla direzione amministrativa del Consiglio regionale con Paolo Costanzi. Le opere sono due. L'ascensore che aveva tre fermate, via Le Rendina, quella nuovo parco urbano e quella in basso che riesce all'interno del tunnel. Anche se in realtà gli ascensori saranno due. La seconda opera è appunto il parco panoramico che sorgerà a terrazzamenti sulla Scarpata a Monte del Terminal. L'opera è molto importante per la città nell'ottica della futura pedonalizzazione. Quando ci siamo insediati il megaparcheggio era scarsamente utilizzato e un eufemismo, c'erano poche unità di macchine che utilizzavano questa infrastruttura importante. Negli anni l'utilizzo è aumentato fino a circa un terzo della capienza possibile. Con questo collegamento contiamo di incrementare ulteriormente, di dare un polmone, perché complessivamente ragioniamo di circa 700 posti auto. Grazie.